In Italia siamo famosi per la pizza, per la Ferrari, per la mafia e per la ceroplastica. Io sono Massimo, io sono Adrian e questo è MenteCast. Spero ti piace la mia faccia di ceroplastica. Ceroplastica è un materiale meraviglioso di cui oggi parleremo, Adrian. Ciao innanzitutto, ciao a te, ciao a te, ascoltatore, ciao a te, ceroplastica. Oggi andiamo in un mondo finalmente di intersezione tra due degli argomenti che ci piacciono di più, scienza e arte. Due mondi che in effetti non vediamo mai incontrati. No, questo è proprio praticamente l'unico punto di incontro che abbiamo trovato fino adesso. Cercato con l'anternino, finalmente salta fuori questa cosa. Gli italiani eccellono, è male, era ora, basta Francia. No, Francia c'è sempre ovviamente, maledetti oltralpi. Che cos'è la ceroplastica e quando ci serve? Allora, ci serve nello studio dell'anatomia. Allora, lo studio dell'anatomia è una necessità che chiaramente emerge nell'illuminismo quando si cerca di capire tutto come funziona dal punto di vista meccanico. E quindi, già precursore Leonardo che iniettava cose nei corpi morti di nascosto per vedere come veniva il calco e studiare poi la struttura del cuore e dei ventricoli. Va sempre avanti lui. Sempre avanti a metter forza. Un giorno faremo una puntata su Leonardo, saranno sei puntate. Esatto. Dopo di lui, però, poi viene utilizzata questa ceroplastica, una mistura della cera di api e della trementina con degli opportuni coloranti per dare delle forme che fossero anatomicamente corrette a dei modelli che quindi potessero essere usati al posto dei cadaveri. Il problema dei cadaveri è che marciscono e puzzano. Le persone nelle università sono tantissime e vogliono tutte studiare anatomia. Non c'è abbastanza morti. Anche mummificare e disseccare funziona fino a un certo punto perché poi comunque le cose hanno una forma differente. E quindi... La sintesi, materiale sintetico. Esattamente. Come oggi abbiamo la plastica, lì c'è la ceroplastica. Niente si aspettano la spana inquisizione spana. Sono il fantasma delle informazioni future. La ceroplastica non è il materiale, è la tecnica. Il materiale è la cera e Massimo non sapeva niente. Teniamo proprio in questo argomento, cioè nell'argomento in cui ci sono degli artisti che cominciano a produrre, sotto la supervisione di medici, cominciano a produrre dei modelli che saranno i famosi modelli anatomici che diventeranno famosi in tutta l'Europa a quel tempo. Quindi vediamo proprio delle figure che sono a metà scienziato e a metà artista. Sì, oppure gli artisti che sono affiancati da degli scienziati come per esempio il nostro Gaetano Zumbo, un siciliano. Lui nasce nel 1656. Inventore della danza aerobica. Dello Zumba. No, 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 non è lui. O no, omonimo. Però non è lui. È il figlio. Esatto. Lui è siciliano, lui comincia come scultore di effigie religiose in cera, ma gira tutta l'Italia. Gira tutta l'Italia perché è molto bravo, è molto richiesto. Lui è anche un abate, una cosa del genere. Lui è proprio una figura religiosa. E girerà Firenze, Bologna, Napoli, fino a quando non arriva a Genova e si incontra con un chirurgo francese. Haha, tu che non volevi Francia. Ok, non gliela facciamo a liberarci. Guillaume de Nouveau, che è un chirurgo e insieme hanno l'idea di cominciare a produrre dei modelli anatomici. Chiaramente il sapere dell'anatomicamente corretto viene da questo chirurgo francese, ma la parte artigianale della produzione viene dal nostro Zumbo, che pur essendo il primo a produrre queste cose... È tipo un mostro. ...produce la roba di una qualità incredibile, ma davvero, sono bellissime queste opere. E sono sia da un punto di vista, da una certa parte delle opere che sono quasi solo prettamente artistiche, come per esempio i Teatrini della Morte, che rappresentano... Stai riferendo a corruzione, che è questa specie di piccolo politico di sculture minimal, che però rappresentano decadimento del corpo dopo la morte, la peste, i vermi, queste cose simpatiche. Oppure delle cose che hanno proprio una funzione più didattica, o che sono anche più anatomicamente corrette, che rappresentano perfettamente l'anatomia, come lo spellato. Che cos'è lo spellato? Lo spellato è una statua di una persona... Uno spellato? Uno spellato è una persona senza pelle. Si vedono i muscoli, si vedono i tendini, le vene, eccetera, eccetera. È molto bello, è anche molto impressionante, però è molto bello. Ma non è l'unico, perché a seguire ci sarà una signorina. No, una signorina è il suo marito. Il marito, lo dico per primo, semplicemente perché muore subito e non ci interessa. Il signor Giovanni Manzolini. Ma la moglie, Anna Morandi, che sebbene si chiami Anna come quella di Morandi, non è la stessa persona. Anna Morandi, il Manzolini in realtà è un artista, tant'è quanto suo marito, forse addirittura superiore, è una maniaca dello studio del dettaglio. Fa degli studi sui muscoli oculari e fa delle esposizioni incentrate su come si muove l'occhio a seconda di quale muscolo si sposta. Ci sono delle riproduzioni di uteri, riproduzioni di orecchie interne. 45 pagine del suo tacuino sul pene. Una passione quella per il pene. Assolutamente. D'altronde l'anatomia, tutte le feste, si porta via. E lei viene invitata ufficialmente da Caterina II di Russia alla sua corte. E ci va. No, non ci va, portanto non ci va, rifiuta l'invito. Non si capisce perché rifiuta l'invito, però non c'ha voglia di viaggiare fino in Russia. Cioè, non vuoi dire, perché? Sta bene lì dove sta? A Bologna. Bologna è meglio. Bologna è meglio della Russia, secondo i bolognesi. Assolutamente. Anche se ci sono molti russi. Però grande scuola anche lei. Anche perché Bologna è una delle due grandi centri di questa cosa. L'uno è Bologna e l'altro è Firenze. Firenze che nel 1771 fonda due, sotto l'egidia di Leopoldo, il nostro, aspetta che te lo cito. Team Medici, diciamo. Granduca Pietro Leopoldo. Il nostro Granduca Pietro Leopoldo. Team Medici. Non so se tu Team Medici. Solo me Team Medici. Però sta di fatto che il nostro Granduca decide di fondare due cose sotto il consiglio di Felice Fontana, che è un medico dell'epoca, uno scienziato dell'epoca, decide di fondare da una parte quello che sarà, che diventerà la specola, cioè il museo più famoso in questo momento, anche adesso, dove c'è la collezione più importante. Del mondo. Del mondo. Del mondo. E nessuno lo sa, soprattutto in Italia. Soprattutto gli italiani non lo sanno. Non si trovano informazioni in italiano. E per cercare queste informazioni le abbiamo cercate in inglese. Sì, sì. Quindi grazie Italia. Grazie Italia. Come al solito una cosa ci abbiamo e una cosa non... Non la diciamo. Esatto. Facciamo finta di niente. E dove fondano anche l'Officina Ceroplastica Fiorentina, che è chiaramente il centro nevralgico della produzione. La fabbrica delle cose che poi vengono esposte alla specola. Esattamente. E all'interno di questa officina ci lavorerà uno dei più grandi scultori di ceroplastiche, di cere anatomiche. Che è Clemente Susini. Perché non andava bene ceroplastico? Non lo so. Decide che cosa vuoi. Clemente Susini, che nasce nel 1754, viene ingaggiato nell'Officina Fiorentina all'età di 19 anni. Giovanissimo. Il garzone del ceroplasto. Esattamente. E lavora per... Sotto, diciamo, il comando di tale Giuseppe Ferrini. Ha 28 anni, però viene fatto capomodellatore. Perché viene fatto capomodellatore? È una bestia. È bravissimo. Lui è sicuramente talentoso, ma si apre anche un'opportunità. L'opportunità è che il Giuseppe Ferrini di cui sopra... Arrubba. Ah! Arrubba. E lo sgamano. Sì, sì. Lui truffa il museo. Non si sa bene come lo truffa. Però si sa che ha rubato dell'argento da dei... L'argenteria. Sì, ha rubato dell'argento dai materiali usati per il lavoro, per la modellazione. E quindi Susini diventa... Ma forse ha rubato dell'argento dal sedere del re Luigi? Lo sapete, mi piace autopromuovermi. Zumbo ci lavora per Luigi, lo sai? Grande! Zumbo lavorerà anche per la... Farò delle sculture di cera del suo popò. Cosimo Medici e per Luigi, per Luigi XIV. Il mito. Mentre il nostro Susini invece lavora principalmente a Firenze. E per tanto tempo, in realtà, il suo nome viene un po' oscurato. Perché viene messo in avanti il nome di Felice Fontana, che è il medico che dà le indicazioni... Ah, ok. Cioè, quando tu dici affiancava, non è che affiancava un artista. Affiancava un medico. Vieniva affiancato da un... L'artista veniva affiancato da un medico. Chiaramente la cosa deve risultare anatomicamente corretta. E il nome di Susini viene in un qualche modo rimesso in valore da quello che sarà il successore di Fontana, che è il nostro Giovanni Fabbroni. che metterà un po' di luce sul fatto che Susini fosse il vero artista, il vero artigiano, autore di tutte queste cere bellissime, tra l'altro. Perché è veramente l'apice della ceroplastica e Susini. Ok. Susini, apice della ceroplastica, perlomeno di una delle tecniche della ceroplastica. Perché quello che volevo che fosse chiarito è che non esiste una sola corrente di tecnica, ok? Cioè, la ceroplastica si può trattare in un paio di modi diversi. Susini è il maestro di una delle due tecniche in cui lui si occupa di fare dei calchi che poi riempie della versione liquida della ceroplastica una volta polimerizzata, una volta indurita, poi può essere svuotata e utilizzata come party. Cosa che tra l'altro gli permette di creare il modello che si dice che è clastico. Cioè, la Venerina, che era forse la sua opera più famosa, è stata prodotta quasi in serie, se vogliamo. Perché gli organi potevano essere rifatti tante volte nello stesso, come si dice? Sì, sì, nello stesso calco. Nello stesso calco, grazie. Ma il calco è difficilissimo da pronunciare e soprattutto da pensare. Ora, questa tecnica non è l'unica. No. E l'altra... Vai, interrompi. No, 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 Susini, era solo per dire che non si producono soltanto figure intere, si producono anche i singoli dettagli ogni tanto. Cioè, vengono prodotte delle sculture che rappresentano solo un organo. Ah, solo l'occhio, solo il fegato. Esattamente, esattamente. E questa è una parte affascinante. Però, come dicevi tu, c'è una seconda tecnica. Cioè, la tecnica è invece un po' più creepy. Il capo di questa è Ercole Lelli, che fonda una scuola, se non sbaglio, a Firenze, di questa tecnica qua. La tecnica consiste nel mettere la cera sulle ossa dei morti. Quindi partendo da uno scheletro già formato e realistico. Chiaramente questo dà un grado di realismo che è inarrivabile per l'altra tecnica, ma l'altra faccia della medaglia è che non puoi produrne in serie. Quindi sono più costose, più rare, meno ritrovabili. Un altro dettaglio che volevo notare, che tra l'altro è in comune, è che spesso le figure rappresentate sono donne. Perché ricordiamoci pure che è vero che è didattica, ma è una didattica che è aperta al popolo. Cioè, questi musei vengono spesso aperti dai loro proprietari al popolo, anche gratuitamente, affinché le persone potessero erudirsi. In contrasto con la chiesa. Quindi la morte non viene raffigurata come una roba brutta e disastrosa, come la chiesa normalmente fa. Per essere in contrasto in ogni modo, spesso e volentieri queste immagini sono di donne che sono sveglie, tranquille, o addirittura in estasi. Se non addirittura ancora di più durante un orgasmo. Perché ci sono delle persone che ritengono che le posi siano un filino troppo sexy per essere solo didattiche. A vederle in effetti sono in pose un po' lascive o comunque con... interpretabili. Mettiamolo in questi termini. Tra l'altro uno storico dell'arte che si chiama... adesso te lo dico, lo ritrovo nei miei appunti... Uno storico difficile da trovare. Ricordatevelo quando cercate le fonti, non tutto è facile. Adrien è in grande difficoltà. Didi Huberman. Vedete, non posso neanche finire la frase, già lui ce l'ha fatta. Lo storico Didi Huberman identifica, tra l'altro, il fatto che queste cere anatomiche vengono prodotte principalmente a Firenze e Bologna, nella cultura, diciamo, un po' più libertina che c'era in queste due città. Firenze e Bologna come Amsterdam. Esatto, c'era un po' forse questo atteggiamento un po' meno così... un po' meno contrito di fronte al sesso, c'era un po' più di libertà. D'altronde stiamo parlando di personaggi che devono lavorare per giorni a degli organi genitali che devono essere il più possibile aderenti, che poi vanno mostrati a tutti, maschi e femmine. Quindi se tu vuoi trovare una chiesa, d'accordo, ci devi mettere un po' per trovare. Sta di fatto che questi modelli si vendono ovunque, cioè si ritrovano ovunque, anche se i costi sono molto alti, perché chiaramente il materiale è costoso, però si fanno buoni affari. Infatti il nostro Ferdinando, no, Granduca Pietro Leopoldo, finirà per dare una pensione alla moglie di Susini, perché per servizi resi... Ah, pensate. ...quando morirà Susini si verrà concederà... Di nuovo come Felix, ricordiamo, stesso di prima. ...concederà un pensionone, esattamente. Ma, dicevamo, la cera è costosa e la cera ha anche un altro problema. È sensibile al calore. Ovvero questa caratteristica del clastico, ovvero che la puoi smontare, puoi rimontare, ci sono dei pezzi asportabili. Se poi con il calore le parti si deformano, non funziona più. Non rientrano più e il polmone adesso occupa lo spazio di due polmoni. E soprattutto sono difficili da trasportare, perché chiaramente se sono sensibili al calore, come fai a trasportarle nel camion refrigeratore come le verdure? No, la catena del freddo medievale non c'è. Esattamente. E quindi, per lo studio della medicina, qualcuno ha un'idea. E se producessimo con un materiale diverso, entra nel 1816 il dottor Amelin, che produce il primo e unico suo modello anatomico in cartapesta. Allora, questo modello, ci sono delle fotografie che non so se riesco a ritrovare, perché le ho viste in una conferenza, però viene distrutto, e qui ci tengo a dirlo, durante i bombardamenti di Khan da parte degli alleati, prima dello sbarco in Normandia. E anche prima del programma Monuments Man. Esattamente. E anche prima del programma Monuments Man. E quindi, niente, questo modello non esiste più. Però, a riprendere quest'idea, sarà il dottor Louis Azou. Il dottor Louis Azou conosceva Amelin, francese anche lui, e niente, proporrà nel 1825 il primo modello anatomico intero, nel senso, la prima figura intera in cartapesta. Completa, da testapiedi. Esattamente, e nel 1830 produce un manichino, però classico, con 60 pezzi rimovibili. Cioè, esplorando il corpo umano. Praticamente, sì. Questa roba è eccezionale per l'insegnamento, per la didattica, è buono anche per l'esercito, dove viene venduto in grandi copie. Cioè, per insegnare alle persone dove sparare, come funziona. No, no, credo che sia per i medici da campo. Va bene. Mi toglie la poesia. Un po' meno successo per i medici, nel senso, negli studi medici non si ritrovano molti di questi modelli. Sta di fatto che però si vende ovunque. Si ritrovano dei modelli di Azou negli Stati Uniti, a Nuova Delhi, a Sydney in Australia, davvero ovunque. E si ritrovano soprattutto nei Paesi Caldi. Perché? Perché nei Paesi Caldi... La c'era si squaglia. La c'era si squaglia e i cadaveri marciscono molto prima. Furbo. Lui non produce soltanto delle figure umane, produce anche degli animali e delle piante che hanno un po' meno successo degli animali, però... Molto belli. Molto belli, molto belli, molto belli. C'è un video su YouTube dove c'è un... sostanzialmente un veterinario che si occupa di questa cosa, che è di ritrovare un po' dei modelli di carta pesta che sono... Dice che sono proprio precisissimi. Sto sperando che abbia fatto delle api fatte di cera a questo punto. Ha fatto dei bacchi da seta sicuramente prodotti in cera molto belli. No, lui era anche un pioniere della divulgazione, infatti... No, grande. Però questa è un po' una furbata. Nel senso che lui faceva delle conferenze di divulgazione sull'anatomia... Per pubblicizzare... Per promuovere il modello in carta pesta che poi vendeva dietro. Solito furbacchione. Sì, sì, è un po' un furbacchione. Però sta di fatto che lui spingeva molto sulla formazione dei suoi dipendenti, perché lui apriva un laboratorio per produrre in serie, ma talmente tanto che uno dei suoi dipendenti, uno dei suoi pittori, un tale Guilier, diventerà prima dimostratore alla facoltà di anatomia di Parigi. E poi professore di anatomia al Cairo. Così. Con l'esperienza che aveva accumulato nel laboratorio di Esu. Soltanto su Manilier, senza aver mai visto una persona vera. Insomma, un paio di enendoti divertenti. Allora, le venere anatomiche di Clemente Susini, quelle di cui abbiamo parlato prima. Quelle che si smontano con tutti i polmoni che si estraggono. E che sono state prodotte, come dicevi tu, in serie praticamente. Si ritrovano in diverse parti d'Europa. La cosa divertente è che in Italia le veneri erano brune. Le signorine erano brune. Ma in Austria le veneri sono bionde. Certo, per fare un appeal sul pubblico. Sì. Le veneri che ricordiamo hanno figli nell'utero, quasi sempre. Alcune sì, anche perché, tra l'altro, le venere anatomiche contribuiscono, non poco, all'avanzamento della comprensione di come funziona l'apparato riproduttivo femminile, di come si sviluppa la vita e di come si fanno i popini. E quindi, grande contributo. Sempre secondo lo storico di prima, Didi Haberman, le cere vengono spesso escluse dalla narrazione della storia dell'arte. Cioè, non vengono considerate arte dagli storici dell'arte. Che è sta sciocchezza. Esatto. E ha a che fare con l'iperrealismo. Perché davvero sono iperrealistiche. E quindi, sostanzialmente, lui cosa dice? Non fanno parte dell'arte perché non c'è simbolismo. Perché non c'è abbastanza simbolismo. Perché è tutto troppo vero. Non c'è possibile l'essenzializzazione. Non è possibile la rappresentazione ideale. E quindi, in un qualche modo, non c'è l'illusione. Cioè, non c'è l'illusione del reale e non c'è lo spazio per... Poi, il fatto che tu vieni una persona sveglia, spentrata, non fa parte di... Quando non mi piace questo storico dell'arte, cancelliamo. Ultima cosa che ti volevo dire... Beh, no, lui fa un'analisi. Lui dice, perché non sono considerato... Santipatico. No, lui. Scusa. Chi? Prima di lui. Esatto. Gli altri. Gli altri. Quelli che escludono le cere. Bravo. L'ultima cosa è che tra le applicazioni della ceroplastica c'è stato chiaramente, e qui ci ricolleggiamo alla nostra puntata sugli zoo umani, i busti etnografici, che sono dei calchi per... Di altre etnie. Identificare bene quali sono le differenze tra tutti quanti e chi è meglio e chi è peggio. Manco a dirlo. Eh, che te lo dico a fare. Ti vorrei anche ricordare... La bella ceroplastica di Ursulo. La vogliamo fare, eh? No, non la vogliamo fare ancora, perché prima ti volevo dire un'altra cosa. La ceroplastica, tanto bella e tanto cara per fare le persone, pochi sanno che a Torino esiste il Museo della Frutta. Museo della Frutta in ceroplastica, che contiene una collezione di svariate migliaia di mele. No, è bellissimo. Ci sono stato un annetto fa, forse due, non mi ricordo. Io consiglio davvero, sono spaventosi i gradi di realismo. Ma tu vai là e dici, questa qua me la mangio. Non io, a me non mi piace la mela, però... Quanto è vera questa cosa? Sì, tu... Vedete che Massimo non mangia la frutta. No, la frutta è sopravvalutata. A meno che non è di cera, a quel punto sì. Ma a quel punto sarà anche il caso che uno clicca like, perché non è che dici, metti sta like, condividi, guarda la puntata su YouTube, ascolta... Commenti, commenti, commenti. tantissimo. E noi vi mettiamo pure un cuore sul commento, tante volte. Pensa che bene che vi vogliamo. E poi potete anche ascoltare questa cosa, perché c'è Spotify, e c'è iTunes, e c'è quell'altro, SoundCloud. C'è YouTube, dove siamo in questo momento, ma forse ci state ascoltando su iTunes. Siamo anche da un'altra parte. Siamo ogni presenti, siamo addirittura su Facebook, Instagram e Twitter. Caspiterina! Ma io non so proprio cosa trollevo fare per farti mettere un condivine. Io lo so, bisogna citare le fonti. Questo è vero. E citiamo le fonti. Allora, io ho un PDF di Marco Bresadola e Silvano Capitani, la cereplastica anatomica del Settecento. Poi c'è National Center of Biotechnology Information, anatomical models and works vineses, art masterpieces or scientific craft works. Poi io ho Science Museum, conserving Dr. Azouz male's anatomical model. E poi la conferenza di Christophe de Guers, lui Azouz, médecin industriel e exportateur. Tu hai delle fonti o devi fare solo la faccia da pirla? No! Fine! Ramaphonen!